Ma che c'è? 800, ma non è che posso? 8 anni e baglioni, tutto quanto il blocco Scusi, faccio io, dia me Ma che fai? Adesso servi tu No, mi diverte servire il purè Ma zio, il purè sulle scargò, che schifo Il purè con le scargò, un piatto cicolò Ma come lo butti? Ma non è mica calcina Ma che cosa fai, zio? Scusa, mi pare vengo subito, eh Aspetta, non c'è!